L'ospedale di Venere aderisce quest'anno per la prima volta a Make Sense Campaign, la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori del distretto testa-collo, promossa dall'Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica. La unità operativa complessa di otorinolaringoiatria del di Venere, diretta dal dottor Michele Barbara, è tra i 130 centri italiani che hanno organizzato giornate di diagnosi precoce, gratuita e su prenotazione. Abbiamo avuto la necessità di implementare una sede importante per lo screening, l'ASL Bari ha accettato questa opzione che viene data e abbiamo questa settimana una settimana di prevenzione per i tumori del cavo orale e della lingua, pavimento orale, faringe, tumori non molto frequenti ma non meno molto orali, sono circa 9.000 casi l'anno in tutta Italia. La motivazione dello screening è perché sono organi che facilmente possono essere studiati anche dal paziente stesso con l'autopolpazione. Basta non trascurare i sintomi di difficoltà di glutire, difficoltà nel parlare, dolore alla lingua, gonfiore alla lingua, basta fare una diagnosi precoce e questo ci consente di fare un trattamento chirurgico mini-invasivo transorale. Tabacco e alcoli principali fattori di rischio per lo sviluppo dei tumori della testa e del collo. Ci sono due abitudini voluttuali che insieme usate aumentano un'incidenza notevole di questi tumori, specialmente ancora più nel sesso maschile che femminile, però ci sono anche gli stili di vita, le abitudini alimentari che vanno tenute sotto controllo. La cosa importante è non trascurare i primi sintomi, quindi noi invitiamo i pazienti a non trascurare le anomalie. Se questi sintomi, questi gonfiori della lingua, questa difficoltà di glutire, questa difficoltà nel parlare, durano più di 20 giorni, un mese, c'è necessità di fare la visita a Torino alla lingua iatrica.